ciao ragazzi oggi vi mostro escalibur umbra e questo warframe qua è come moddarlo se non avete fatto la quest the sacrifice o il sacrificio non guardate questo video perché contiene spoiler si tratta soprattutto della build ma se non conoscete il frame è inutile che lo guardate perché si tratta proprio di contenuti ad alto livello ed endgame buona visione escalibur umbra escalibur umbra è questo frame nero che vedete in seguito al completamento della quest the sacrifice che potete fare dopo che avete completato the war within e is the second dream quindi una quest abbastanza avanti nel game una volta che avete ottenuto il frame avete delle mod particolari per moddarlo e sono praticamente queste mod qua che si chiamano umbral vitality umbral fiber e umbral intensify io vi consiglio come lo ottenete di usare una forma quindi action forma su questo slot qua e mettere corrosive projection perché se usate il frame avanti nelle partite potrete per l'appunto usufruire di questo bonus di meno 30 per cento di arma di solito chi gioca warframe a livelli veramente veramente alti quindi endless o comunque in dura strano partite che durano tanto può usufruire di questo bonus di arma che diviso per 4 cioè 30 per 4 supera il 100 per cento quindi i nemici che andrete a affrontare non avranno armor in poche parole i danni che andrete a fare sui nemici che affrontarete verranno tutti applicati sulla sulla vita di questi ultimi poi vi consiglierò probabilmente io la toglierò in futuro ma consiglio a chi deve moddare Excalibur Umbra di mettere la mod maglev qua maglev oppure se non vi piace maglev c'è anche quella dello sprint che si chiama rush è indifferente hanno lo stesso costo se non sbaglio sono 11 entrambe una vi aumenta lo sprint l'altro vi aumenta slide friction questo vi aumenterà la velocità del gameplay in generale di tantissimo di tantissimo di quanto del 30 per cento perché il frame stesso si muoverà del 30 per cento più velocemente questo non solo influisce sulla velocità del frame stesso ma anche sulla velocità dell'animation e anche sulla velocità dell'attacco della spada quindi ve lo consiglio soprattutto se andate in melee però siete non siete obbligati c'è anche questa mod qua volendo che non è male se non sbaglio ok comunque c'è anche un'altra mod dorata power drift che non è male volendo volete scambiarli adesso forse non posso metterla si posso metterla se dovete aumentare la strength sopra il 100 x per cento potete metterla power drift lì detto ciò una mod queste tre mod vanno maxate io non le ho ancora maxate perché costa tantissimo maxarle costa circa 20 mila di endo l'ultimo upgrade 10 mila il penultimo e per tre fanno tantissimo quindi fanno 20 40 60 mila di endo già solo queste tre mod e quindi fatelo perché conviene mettere tutte e tre allora innanzitutto parto col dire una cosa molto semplice questi slot qua hanno una polarità propria che se togliete non potete riottenere quindi non toglietela allora umbral vitality umbral fiber intensify hanno un set bonus questo set bonus è del aumenta se le tenete tutte e tre come vedete adesso c'è 700 se io tolgo questa questa scende a 500 se tolgo anche questa questa scende a 400 su livelli alti è opportuno avere tutte queste tre mod quindi queste tre mod sono indiscutibili dovete averle tutte e tre poi per quanto le maxate lo scegliete voi il mio setup è fatto per maxare l'armor infatti adesso voi non lo vedete ancora ma qui questa armor aumenterà tantissimo tantissimo non so dirvi adesso i valori precisi adesso siamo a 750 di armor e 1000 di health questo setup tra l'altro è temporaneo però è molto utile per spiegarvi come potenziare umbra ci sono due build principali che voglio farvi vedere una è la build per l'exalted blade che sarebbe la chromatic blade purtroppo non ce l'ho maxata ma va bene perché devo solo farvi vedere com'è allora se voi potenziate power drift mettete power drift qua la strength come vedete è 157 se potenziate umbra l'intensify e avete power drift tutto meno uno puntino quindi invece che uno due tre quattro cinque upgrade ne mettete solo quattro se non sbaglio è sufficiente a superare il 180 per cento il 180 per cento vi serve per portare la strength soprattutto invece si deve portarsi che la chromatic blade ovvero la spada aggiunga il cento per cento di status vuol dire che poi quando moddate la spada exalted per l'abilità 4 potrete poi praticamente usando la spada exalted farà sempre danno da status e niente quindi quella è la build per chromatic blade quindi se volete usare chromatic blade così adesso questi tre sono mod fondamentali poi c'è chromatic blade se volete buildare per lo status e power drift e ce li mettete lì poi un'altra mod molto molto utile per umbra soprattutto per chi lo utilizza in quasi tutte le missioni è flow o prime flow diciamo che le prime mod fanno una grande grande differenza come vedete qua io ce l'ho adesso non è potenziato per farvelo vedere potenziato devo andare in mods e qua fusion allora prime flow vi arriva fino al 275 per cento di energy max escalibur ombra parte con energia di 150 225 comunque l'energia è più o meno questa io ho dei potenziamenti sull'energia che non si possono vedere da qua perché li ho grazie al focus 3 e sarebbe poi qua quindi è un po' difficile da capire per il momento mi ritorniamo questo aumenta l'energia di base quindi potete spammare le abilità se avete la chromatic blade potete tenerla più lungo perché è molto più alta poi allora adesso vi spiego questo setup questo setup andrà cambiato perché andrà adrenoline piuttosto inutile quindi lo cambio dire e ombra è uno dei frame più difficili che io abbia mai moddato questa è l'unica cosa che voglio dire per il momento metterò vigor ma sinceramente non ha più paia di cosa mettere probabilmente ho sia rolling hard e narrow minded probabilmente ci sono ancora due mod su cui dovrò utilizzare allora parliamo di questa mod qua iniziamo da quick thinking quick thinking vi toglie l'energia per togliere il danno letale con 240 per cento di efficiency questa mod può essere sommata a la dietro vice volendo la dietro finesse questa qua per togliere un altro 60 per cento di efficiency quindi arrivare fino al 300 per cento di efficiency quindi se state morendo che non avete più vita invece che togliervi la vita vi toglie l'energia avendo prime flow c'è tantissima energia quindi questa mod si combina molto bene con prime flow diciamo che le vedete molto bene assieme a un costo assurdo tra l'altro 15 quindi tra l'altro non so se ho fatto bene a maxarla perché con lo slot così con la forma si divide non so se avrei dovuto fare 14 sono messa 15 però per il momento cioè salvarmi da danno letale non è male come cosa verla così giusto che uno si accorge che sta morendo poi quindi questo mod vi salva da danno letale e questo mod vi da energia poi quando umbra viene colpito ad alto livello o a basso livello da nemici che danno debuff o ignorano gli shield mod come queste vengono triggerate subito tipo se io ricevo un danno che ignora gli scudi se non sbaglio toxin damage o cose del genere e umbra perderà vita per via di questa per il danno che ignora per appunto gli scudi e passa direttamente alla vita se io sto per morire invece che togliermi la vita mi toglie l'energia quindi questa energia oltre al flow può essere aumentata un sacco grazie anche a i focus 3 adesso non so se li ho qua probabilmente no probabilmente li ho nell'altro nello zenuric da questa cosa qua dall'energy pulse perchè l'energy pulse vi da più energia in tot secondi se è aumentata tipo da 40-8 secondi 50 fino al 100% se non sbaglio o 90 non sono sicuro comunque lì può essere aumentata non che eh boh gli energy pick up sono molto utili ci sono anche altre cose qua interessanti ma eh no esci esci lì si parla di energia poi ci sono diversi focus 3 e si bisogna equipaggiare focus 3 diversamente ma adesso non entrano ai dettagli perchè noi pensiamo moddare Umbra e Umbra così moddata dovrebbe resistere anche ad alto livello diciamo eh perchè ho messo prime continuity allora prime continuity qua vedete le abilities può servire per due cose se fate la run con l'exalted quindi con chromate blade eh vi aumenta un sacco eh cioè vi dominisce il drain di energia per secondo come vedete di base 2.5 così vi passa 1.72 quindi potete usare l'exalted blade senza problemi io sinceramente sono mesi che provo a far sì che l'exalted blade valga la pena essere usata non ci riesco quindi ve lo faccio comunque vedere per chi lo volesse fare poi l'exalted blade cosa influisce? influisce sul radial howl quindi se voi premete 2 e stonate i nemici e verranno verrà fatto sì che cadano in preda alla conclusione voi potrete fare del finisher damage cosa a cui arriveremo spiegherò velocemente cos'è il finisher damage ma influisce anche sullo slash dash che voi non vedete il dash between enemies un pochamente è un attacco orizzontale con una spadata che toglie 350 damage e si muove di 12 metri quello che non vi dice è che non si muove di 12 metri si muove di più di 12 metri grazie a prime continuity si muove di 21 metri così o se potenziata anche un po' di più adesso io non so se potenziata non so cosa potenziarò perché la mia capacity non è il massimo devo prima di sicuramente potenziare vitality fiber questi due mod sicuramente poi qui adesso c'è prime vigor per avere più vita ma potrei aspettare mettere poi o sostituire o con prime vigor o con prime sure footed ho chiesto se stream lane funzionasse con quick thinking per l'efficiency ma praticamente probabilmente no oppure una mod del genere con un faster stagger recovery adesso non sono sicuro penso che prime sure footed sia meglio perché tipo non ti fai buttare giù quindi non c'è cadute quindi non serve la recovery però non so ancora cosa dirvi oppure se usate l'exalted blade anche streamline o transient fortitude credo che siano buone mod da utilizzare transient fortitude non ce l'ho ma ve lo posso consigliare poi nelle flex guard nella wiki di escalibur c'è scritto che se la utilizzate potenziata su umbra quando all'exalted blade dovrebbe far viper o comunque rendervi ancora più invincibile non l'ho ancora testato ma è utile quotarlo per chi volesse farsi la build bene e boh detto ciò l'importante è che l'efficiency la forza sia sopra i 180 se volete usare l'exalted se non la usate la forza sarà comunque utile per quando fate abilità quale il royal javelin che potete ad esempio fare 1.4 di damage data la forza perchè qua c'è il damage per un tot di radius occhio che se mettete transient fortitude massato al massimo o era transient fortitude o era fleeting expertise adesso io le confondo sempre sti due mod comunque una delle due vi appa la strength e vi riduce il range occhio che se lo mettete maxato il radial hole passa 2,5 metri quindi non mettetelo maxato tanto non serve superare troppo il 180% e boh tutto qua e serve comunque se avete più di range sulla radial hole è meglio perchè fate finisher i due arcane allora io consiglio arcane guardian arcane ultimatum o arcane strike o doppio arcane guardian o boh o c'è anche arcane trickery io ragazzi non li ho tutti quindi è difficile capire diciamo allora partiamo con arcane guardian arcane guardian diciamo che è un must have quasi adesso purtroppo non riesco a capire con la build che ho fatto se mi converrà tenere comunque arcane guardian o passare a altri arcane ultimatum allora arcane guardian vi da più armor se c'è danno al al warframe e molto spesso c'è danno al warframe quindi aumenta l'armor come c'è il danno e fino al 600% di armor per 20 secondi quando avete maxato arcane io adesso ce l'ho 300 per 10 secondi 600 per 20 secondi è una bella una bella cifra 20% vuol dire una volta su 5 mettete 2 volte su 5 non è male se ne usate 2 poi l'altro arcane che voglio farvi vedere è arcane ultimatum che è quello che ho adesso questo qua vi darà il 150% il 150 non il percento 150 di armor e basta per 5 secondi fino a un 100% di chance di 600 di armor per 20 secondi considerate che su finisher il finisher o usate quello o usate il trickery il trickery vi darà invece il 10% di chance di diventare invisible quindi come si triggera il finisher il finisher si triggera premendo 2 dalle abilities facendo la raya law andando dietro un nemico vi tirate la spadata e lui vi farà il finisher e questo è molto utile se voi mettete arcane tipo il trickery o il o l'ultimatum perché o vi aumenta l'armor o diventate invisibili il che vuol dire che se vi aumenta l'armor non vi uccido più difficilmente se diventate invisibile fate ancora più danno da invisibile è che non è niente male detto qua quindi per il momento questi due la build come ho detto assolutamente non è definitiva ho moltissime altre cose da provare però non la finivo più c'è ancora una mod adesso qua io ho armor and agility o vigor una delle due sicuramente verrà sostituita con adaptation che vi riduce il 90% di danno in entrata e penso che il 90% di danno di entrata valga più la pena è difficile stabilire se aumentare l'armor per non morire o ridurre il danno in entrata ma penso comunque che adaptation sia una mod che vada inserita in questo setup che maxata vi toglie il danno in entrata fino al 90% in base a ogni status types che riceverete detto ciò allora l'exalted blade ombra vi appare con l'exalted blade l'exalted blade che ha due slot così con la polarità quindi queste due andranno maxate io non ho ancora fatto niente per maxarle ma andranno prima o poi maxate perché fa una marea di danno e diciamo che la mia exalted blade assolutamente non è pronta però voglio farvi vedere un paio di mod per capire come moddare ombra poi scegliete voi queste due mod sono un must have perché vi aumenta il melee damage di più se non uguale a prime pressure point quindi tenetele tenetevi gli slots che sono così allora l'exalt d'ombra come funziona allora l'exalt d'ombra si divide in due parti c'è il danno di spada e il danno delle waves sono due cose completamente diverse il danno della spada si insomma al danno della della spada originale se non sbaglio se non sbaglio il danno delle waves è condizionato dalle mod che sono presenti nell'exalted e dalle mod che sono presenti nella zoo o nella vostra arma primaria che sia una spada che sia una heavy blade che sia una che sia quello che volete la vostra arma melee che sia redeemer che sia gram che sia qualunque arma tra queste le mod in questa weapon e le mod che sono qui eccetto le mod alcune mod che non hanno effetto ad esempio drifting contact non ha effetto sulle wave quindi lo status chance che inserite mettendo drifting contact avrà effetto solo sulla spada exalted ma non sulle wave dell'exalted allora direi che una mod da avere da avere qua nell'exalted è prime fever strike perché comunque la si guardi è un danno incredibile di toxin altissimo e che potrete per l'appunto portare sia nelle waves e siccome se fate la build per lo status non vi serve neanche tanto status e qua vedete un danno così potente anche se non c'è 100% di status secondo me vale vale comunque la pena questa secondo me è una must have poi c'è fury che può essere anche istituita con prime fury per l'attack speed vale per la spada ma non vale per la velocità delle waves gradator vice stessa cosa vale sull'attacco della spada ma non vale sull'attacco delle waves quindi queste due mod sono solo per la spada quindi per produrre le onde più velocemente ma non per avere le onde più potenti quindi se volete le onde più potenti le togliete entrambi io comunque le ho entrambi perché ovviamente c'è anche un'altra mod oltre a berserker ovviamente quindi abbiamo il 60% di base di attack speed queste due mod andranno a influenzare abilities lo slash dash quindi quando premete uno quando premete uno la velocità con cui voi mi muovete nel range di in questo caso 21 metri perché ci vorrei incontinuiti verrà influenzata da queste mod qua oltre che a quelle sulla zone forse di sicuro da queste no perché quando premete uno tirate fuori l'exalted quindi queste due mod qua quindi quando mi muovete con uno andrete velocemente ora organ shatter vi dà il 90% di critical damage diciamo che questa mod qua vi dà comunque il 15% di critical chance già solo messa così perché ce l'ha di base il 15% di critical chance e questo vi dà il 90% di critical damage quant'è la critical chance di questa di quest'arma 24% quando uno tira fuori l'exalted c'è un 200% in più di critical chance questo è scritto nella wiki spero sia vero comunque sarebbe un 224% di critical chance con il critical multiplier di 3.8 quindi è un botto di danno critical se viene applicato quindi non è niente male adesso qui nell'exalted avrete una cosa sarà difficile capire per cosa moddare ma l'exalted nasce come di base è altissima di slash di suo io ho messo berserker che aumenta ulteriormente l'attack speed fino al 75% quindi da 30 60 più 75 siamo a 125% di attack speed quindi non ho messo nessuna arcane che abbia la velocità di attacco delle spade se voi voleste moddare la spada di versamento qua dovreste mettere arcane strike che vi aumenta il 10% del 40% di attacco super speed alle spade melee volendo è un altro tipo di modo per moddarla e niente quindi essendo che la mod è per slash scontate che io non l'ho assolutamente toccata la spada exalted perché non ho ho forse messo una polarità qua per far stare prime fever tutto qua perché di sicuro ho pensato sicuramente metto una v polarity quindi per il momento ho messo così tutte le altre mod sono ancora da scegliere potreste vedere ovviamente ho anche mod tipo condition overland io non so se mettere perché 60% di melee damage per 4 solo 4 status type non so se vale la pena e tra l'altro sulle waves si applica già perché io ho condition overlord sulla zoo quindi questa è la mia zoo vedete la condition overlord e con 7 status type quindi questa viene già bloccata sulle waves teoricamente la wiki è un po' imprecisa quindi dovrò testare molto più spesso questa è la mia zoo ha da combo blood rush condition overlord quindi alto crit alto damage di base e 165 melee damage ho volta il strike che l'ho preso da baroque tier che è il trader che viene nei pianeti che aggiunge electricity electricity e prime fever fanno corrosive corrosive è la la viralità che viene diciamo che tra gli status quello che viene broccato di più quindi quello che è la chance più alta di partire la cosa più bella è che questa zoo ha un attack speed del 1,32 e per il momento ha solo la dietro vice quindi ha il 30% di attack speed ma potrei mettergli poi prime fury che ha quindi il 55% di attack speed di base che aggiunto berserker fa un danno della madonna quindi fa un danno velocissimo e di base il leap attack quindi il leap attack vuol dire la spada di base è di 716 con 473 quindi quasi 500 di corrosive prime reach secondo me è una mod che voi dovreste avere sicuramente ho provato a differenza della reach base prime reach ma quando andate proprio contro gli heavy gunner nel simulacrum fa un danno della madonna quindi veramente provatelo provate prime reach costa un sacco la trovate con barroquiteer che viene nei piani di ogni tanto potete comprare da lui costa veramente tanto come anche prime fever costano tantissimo diciamo che le mod da avere due per la spada sono uno e due e tre prime fever per il danno più che altro per il corrosive e poi le altre se non avete berserker già spada è già una meraviglia quindi se non avete gladiator vice potete usare fury tanto sono praticamente indifferente vi toglie solamente fury la ottenete la ottiene chiunque è sempre 30% non c'è il 15% di critical ma fury e prime fury vanno benissimo qua quindi se avete giocato più di tot giorni potete mettere prime fury se no mettete fury oppure gladiator vice è indifferente la zoo che ho io ha 7 status type però di suo non ha l'elettrico come vedete andrebbe di viral ma non andrebbe di corrosive perché non c'è elettricità però mettendo ce la va così e quindi è alla grande lo status non è così basso perché lo status qua è un 30% ma un 30% su 1.32 di attack speed più berserker quindi su 1.32 più 75% vuol dire che lo status è sopra il 50% quindi più di metà delle hit saranno con status con status quale status molto probabile che sia corrosive perché abbiamo 1.2.3.4 per un totale di 120% no 120% 120 di danno che può essere impact puncture slash il restante corrosive viral quindi la chance sarà molto più alta di corrosive e le spade molto spesso proccano impact puncture slash c'è da dire questo è molto meno spesso viral e corrosive quindi averla al 100% sarebbe stato meglio ma con prime bridge sale anche molto la combo e tra l'altro la create chance è già altissima di suo quindi potrebbe anche esserci un qualche colpo create oltre a questo e devo ancora rollare la riven comunque anche qua la spada si potrebbe facilmente portare al 100% di status ma sarebbe molto lenta quindi non so se varebbe la pena ci sarebbe tutta un'altra build comunque quello che volete vedere voi e sono le mod che comunque influiscono sulla sull'exalted perché io vi sto facendo vedere come buildare umbra non come buildare la vostra spada e su questa spada ci sono per l'appunto il danno di elettricità condition overlord load rush prime fever quindi queste quattro qua queste cinque mod che influiscono come dietro vice no queste quattro mod che influiscono sulle ondate della waves anche questa anche prime pressure forse sulle waves adesso che ci penso sono un danno non lo so prime pressure non lo so comunque influiscono sulle waves e boh tutto qua quindi questo è come mod dare escalibur umbra c'è ancora una cosa da dire ho detto tutto si vi parlo brevemente del design allora io sto usando l'amaty skin che è utilizzata grazie al chi ha discord nitro cioè il pack reverence pack può climbare queste skin con i cerchi bianchi una cosa carina che è abbastanza unica a molti non piace il giallo a me piace il giallo se usate la chromatic blade l'energia mettetela se non sbaglio blu che fa cold damage o comunque dovete vedere cosa avete nelle altre cose la zoo come vedete ha questa aura qua e questo è dovuto me lo ricordo vediamo me lo ricordo non so se è il fatto che sia stata formata più volte ah no exodio epidemic giusto gli aumenticavo questo exodio epidemic se voi fate uno slam attack e colpite i nemici gli sospende in aria per 4 secondi proccando il viral damage quindi proccando questo viral e corrosive alta chance di proccare e quindi questo le modifica l'appearance qua in alto è carina come cosa era diciamo che valeva la pena dirla poi magari ci saranno molti player che hanno la spada più forte della mia magari molti player che hanno ombra più forte del mio molti player magari questa build ragazzi come vedete non considera lilly ci sono mod tipo healing return che sono molto buone ristora uno di vita per ogni tipo di status che colpisce il bersaglio che possono essere utilizzate in questo caso magari rinunciate dall'attack speed e tenete solo berserker oppure tenete solo prime fury anche questa per ogni vi ridà vita per ogni status type che colpisce il bersaglio il companion è utile notarlo solo se avete quelle mod tipo se avete ovviamente delle mod tipo la che chi vi prendono tipo tipo questa qua del plague star o rage oppure vigilanti non è vigilanti è antradrenaline che avete 25% di slash purtroppo io non ho un companion quindi non non ho un companion tipo i gatti che danno grandi buff all'operator quindi non so dirvi nient'altro questo è rescalibur ombra ce l'ho fatta credo di averce se ho spiegato qualcosa male o se credete che abbia sbagliato qualcosa ditemelo perché rescalibur è uno dei frame più complicati da montare e spero che viate apprezzato la mia spiegazione e spero che possiate utilizzare il frame meglio non vi farò vedere come si muove vedete già che è velocissimo comunque e perché sennò durerebbe un'eternità comunque la spadate ha 1.32 la velocità è assurda diciamo e boh per il momento chiudo qua adios a un'eternità Grazie.